Benjamin Netanyahu ha chiesto la rimozione immediata dei Piskipper dell'Unifil dalle postazioni nel sud del Libano. La sua richiesta fa seguita alla condanna degli Stati Uniti e dell'Unione Europea per i ripetuti attacchi dell'IDF sui caschi blu. Israele continua a sostenere che il rifiuto di ritirare la missione di pace consenta a Hezbollah di usare i Piskipper come scudi umani. Poco dopo l'Unifil ha denunciato ulteriori scioccanti violazioni da parte dell'IDF chiedendo spiegazioni, due gli episodi, uno all'alba con l'irruzione di due tank israeliani in una postazione ONU e un altro sabato con dei soldati che hanno impedito il passaggio di un movimento logistico critico dei Piskipper. Grazie